Leprecon. Non so davvero cosa pensare. Avere l'intuito per scegliere il giusto. Passare a dopo senza problemi. Ma non temere di perdere il gusto. Io non sopporto le cose vaghe. Provo ad essere indecifrabile solo se serve ad aumentare la voglia di fare la mia conoscenza. Di approfondire che c'è da fare. Muoversi insieme con indifferenza. In questi tempi poco propizi mi sembra giusto avere anche dubbi su tante cose che stanno attorno. Quello che è vero di notte e di giorno. Lei è di certo pronta a mollare ma senza sapere se almeno può fare quello che crede di aver capito. E tra qualche ora avrà già cambiato. Quello che cerco non è certezza ma se non ci spero non serve provare. Anche se a volte passa la voglia. Quello che penso è da dimenticare. E se dopo un ognomo irlandese potesse portare un po' di saggezza rimarrebbe sempre l'origine. E questa non è davvero sciocchezza. E non sopporto le cose vaghe anche se faccio l'indecifrabile. Mi serve a poco. Non serve a niente. Ma proprio non mi piace l'indifferenza. Se approfondire non le interessa. Non ci vuole molto. Facciamo senza.